Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, oggi sto pubblicando post sul blog, video su YouTube, a getto continuo, a getto continuo, a getto continuo, davvero, è dura, è dura, è dura, però cerco davvero di farvi sapere tutto, le informazioni ufficiali di Konami, le indiscrezioni, le deduzioni, eccetera. Io spero che tutto questo sia apprezzato da voi, per farmelo capire potete iscrivervi al canale, potete abbonarvi al canale da 99 centesimi al mese, 3 centesimi al giorno, oppure potete anche sottoscrivere un abbonamento maggiore, oppure senza spendere un centesimo di più potete fare un acquisto su Amazon, qualsiasi cosa, passando per il link di affiliazione presente nella descrizione del video. A voi non costa un centesimo di più, ci supportate per le spese del network, per le attrezzature, eccetera, eccetera. Comunque, eFootball, altre novità importanti. Allora, il sito ufficiale si è aggiornato, qui vabbè, lo sappiamo, le squadre della demo, sappiamo dei play online PvP matches con rewards che poi saranno utilizzabili nella modalità, diciamo, la nuova My Club. E ci sono tantissime cose da approfondire, cercheremo un po' di capirle, ma non è neppure facile capirle fin quando poi non saranno disponibili. Però io vi volevo focalizzare l'attenzione, eccolo, questo è il Match Pass Season 1, questo è il Season 1 12 giorni, che sarà qualcosa, secondo me, simile al login. Invece questi sono gli obiettivi premium e qui sono, questo è differente rispetto al passato, i contratti, le virtual currency, questo non è molto differente da prima. I coins sono i coins, i GP li conosciamo da una vita, i football points, questo sostanzialmente sembra simile. Allora, primo elemento, questo ve l'ho mostrato anche sul blog di PES Italia, c'è il logo della Serie A per questo giocatore della Juventus. Significa che ci sarà la Lega di Serie A? Io a questo punto credo di sì, anche se arrivano informazioni differenti. Questo non vuol dire che però che se ci sia la Lega di Serie A, poi tutte le squadre avranno il nome ufficiale, perché anche FIFA probabilmente avrà la Lega di Serie A, ma non avrà i nomi delle squadre partner di Konami. Però qui il logo di Serie A campeggia, qui lo vedete piccolino, ma nelle immagini che ho pubblicato sul blog di PES Italia si vedeva meglio. Qui ci saranno quattro tipi di giocatori, standard, trending, sarebbero i giocatori in evidenza, i featured, e qui sarà una cosa un pochino differente, e le leggende, che potrebbero essere parificate sia le leggende che anche l'icona, perché parlano di una specific season quando loro hanno avuto una performance stellare, quindi sembrerebbe più qualcosa di simile all'icona piuttosto che alla leggendaria. Comunque, la cosa importante è appunto questa, che c'è il logo di Serie A. E poi, a sorpresa, a sorpresa, qui vabbè, match types, eccetera, bonus veterani. Io, onestamente, quando qualcuno me lo chiedeva, dicevo, io non lo so, aspettiamo Konami, però passando da PES a eFootball probabilmente non ci saranno. E invece ci saranno bonus veterani. Per ringraziare a tutti coloro che hanno giocato a eFootball PES 2021 Season Update e a eFootball PES 2021 Lite, daremo dei regali che potrai utilizzare all'interno di Football 2022. Maggiori informazioni saranno annunciate presto. Quindi, per il momento, comunque, sappiamo che giocare a PES 2021, sia in versione completa, sia in versione Lite, ci porterà dei vantaggi all'interno di Football 2022. Non chiedetemi quali, ovviamente, perché attualmente, non ve li so dire, perché, come avete potuto vedere, non li so neppure io e non li dice neppure Konami. Vediamo un attimo se c'è qualche novità nella FAQ, e la vedo insieme a voi. Allora, le squadre va bene, molti più squadre autentiche saranno aggiornate con l'aggiornamento di autunno. Potranno essere usati come Basic Team per il Building Credit Team, ci sarà un altro aggiornamento in inverno dove gli utenti potranno divertirsi con tutte le squadre disponibili. E quindi, prima usciranno le squadre con licenze e poi anche le fake durante l'autunno. Ci sarà un Edit Mode, che sarà gratuito, ma non si sa quando. Quando sarà annunciata la Master League, in modalità offline, come la Master League, saranno disponibili come un contenuto aggiuntivo in futuro. In futuro, per il momento, ancora incerto. Felicità non costante. Non sappiamo se sarà in autunno, se sarà in inverno. Vi aggiorneremo. Poi, vabbè, questa è la qualità dei giochi. La grafica nel Gen sarà downgradata per giocare contro gli utenti mobili. Ci saranno degli aggiustamenti grafici, ma la Next Generation Graphic e il console non saranno downgradate. Quindi, pure, se utilizzerete il crossplay con i giocatori mobile, avrete sempre la stessa grafica. Poi, possiamo togliere il matchmaking. C'è il crossplatform pre-matchmaking, lo potete togliere. Quindi, si potrà basare sulle regioni e sulla piattaforma. Quindi, potremmo giocare con chi vorremmo. We play matchmaking, such as match tra i giocatori che possono comunicare confortevolmente. Quindi, sostanzialmente, dovrebbe metterci in comunicazione con giocatori che avranno una vicinanza a noi e quindi dovremmo giocare meglio. Ma questo staremo a vederlo successivamente. Qui c'è un coming soon che non sappiamo ancora di che cos'è. La localizzazione del sito web è ancora in corso. Io vi ringrazio per la comprensione e vi ringrazio se supporterete il network di siti di Italia Top Games, di blog di PS Italia. Come detto, già iscrivendovi al canale, abbonandovi al canale e facendo acquisti tramite il link di affiliazione di Amazon. A voi non costa un centesimo di più. Questo è sostanzialmente tutto quello che si sa al momento di football. Vi ricordo, data dell'uscita della Demo Plus, così mi piace chiamarla, perché è questa parte online, diciamo, che è più di una demo, 30 settembre. Vi ringrazio per l'attenzione e a prestissimo. Ciao! Ciao!